Un piatto speciale oggi, riso, lenticchie, verdure, patate, insalate, cose buone che sono state preparate ieri da Rosalinda e i suoi assistenti. Grazie anche alle varie persone che sono arrivate oggi, questo bravo ragazzo africano. La prima volta abbiamo i nostri bravi amici che sono qua, c'è Ruth, anche c'è Dawa e poi abbiamo il missionario Todd Kincaid. Bravissimo, Dio ti benedica, grazie. Ci abbiamo questa brava ragazza qui avventista e poi abbiamo il capo della polizia là dietro, De Gennaro. E io scherzo, dimissionario, ha dato le dimissioni, c'è Rosalinda che sta ballando dalla felicità e c'è anche Jean Belen. Saluta Jean Belen, bravo, bravissimo, Gannat, la nostra brava Gannatuccia. E abbiamo qui Giuliano Gemma, Giuliano il giusto, che si è tagliato i capelli. Bene, 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 bene. E poi Jennifer là. E poi c'è questo piccolo bambino. Ecco, c'è anche lui, bene, con la mamma. Benissimo, benvenuti a tutti quanti voi, grazie di essere venuti. Adesso stiamo mangiando, stiamo condividendo il cibo solido e poi tra un po' ci sarà, se Dio vuole, anche il cibo spirituale. Abbiamo qui la Bibbia che è pronta. Se Dio vuole ci sarà la condivisione anche della parola di Dio. Grazie a Dio. Basta? O di più? Basta.